cari fratelli e sorelle nerazzurre sono ancora don gigi inter purtroppo non ho preparato nulla non volevo neanche farlo questo video perché vista la situazione credo che una partita di calcio anche se la partita di calcio con la p maiuscola è quella che tutti i tifosi aspettano andata e ritorno perché è la sfida della sfida il Dermi d'Italia però credo che il Dermi d'Italia si sta giocando su su tutto il territorio tra l'altro vedo purtroppo che le parole di Oriana Fallaci di tanti anni fa che diceva che siamo un popolo egoista e quant'altro si stanno facendo vedere sempre di più che aveva perfettamente ragione vedi scene veramente che rimani basito cioè ti dicono le cose oppure anche gli stessi tedeschi che nei film di fantozzi dicevano italiano dal chitarra mandolino dire cosa fare alta ecco dire cosa fare altra ti dicono di fare una cosa tu te ne freghi altamente ti dicono di stare a casa te ne freghi altamente i ragazzi sono a casa da scuola anziché magari sfruttare il fatto che non sei sei a casa da scuola magari stai andando male sfrutta queste due tre settimane per studiare le materie in cui sei un attimino debole magari fai una full immersion con un professore che ti dà qualche ripetizione eccetera così magari ti porti impari salvi l'anno da magari qualcuno lo fa ma la maggior parte la vede come una vacanza che bello siamo in vacanza in tutti questi anni non ho mai visto una situazione del genere non c'era negli anni 60 dove non ero ancora ero appena nato quindi certi negli anni 60 quindi non c'era negli anni 70 negli anni 80 eravamo belli allegri spensierati anche se non avevamo avevamo solo dj dj television di anche se ormai ero già in seminari eccetera quindi dj television minga troppo però avevano quello adesso hanno tutto hanno tutto abbiamo abbiamo pandemie casini scusate il termine e poi vi si dice una cosa state a casa che avete tutto avete il computer avete lo smartphone tanto anche quando siete in giro siete sempre lì vanno con lo smartphone che vi mandate messaggi a un metro di distanza sei un metro anziché dire a voce alla al tuo amico quello che gli mandi il messaggino e adesso che potete stare a casa belli tranquilli guardarvi tutte le puntate di quello che volete non volete uscire vi dicono di stare a casa e voi uscite vi dicono di non andare fuori dalla lombardia perché ahimè così è e voi andate fuori lo stesso io vedo tutto questo menefreghismo quindi non ho neanche voglia di dire al signore di guardare giù perché non ne vale la pena se vuole guardare giù questa sera per la partita forse meglio perché almeno non perde tempo tanto è inutile con gli zucconi come direbbe qualcuno è inutile perdere tempo quando uno gli si dice una cosa una persona deve fare quella cosa se ne frega cosa volete dirgli poi continua a sentire che gli asteroidi ci sfiorano qualcuno spera che ci prenda e almeno ci leviamo dalle scatole tanto siamo un danno siamo un danno sono morti un miliardo e 250 milioni di animali in australia ma chi se ne frega in africa come spiegava job e covatta muoiono 20.000 bambini al giorno ma chi se ne frega io ogni tanto job e covatta lo guardavo anche se prende un po in giro la religione eccetera con le sue cose però prendendo in giro la religione dice anche cose giuste prendendo in giro tra virgolette perché ahimè dice cose giuste dice cose che finché non ci toccano se ne frega provate a dire sono morti 20.000 bambini in italia provate a dire caduta una scuola perché l'hanno bombardata in italia e sono morti 100 bambini che erano nella scuola cosa succede in immondo un mese di lutto nazionale muoiono in africa che se ne frega poi vabbè uno può anche dirmi giustamente poi crescono e vengono qua a rompere le scatole con tubercolosi scabia e quant'altro magari ma non è razzismo è autodifesa signori miei io quando quando vedo queste cose dico boh 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 anziché aiutarli continuano a dire che con due euro li puoi mantenere puoi mantenerne uno poi vengono qua gli devi dare 35 per mantenerli siamo dei geni dei geni del male come diciamo sempre e adesso paghiamo le conseguenze perché perché fanno gli esperimenti c'era un film tanti anni fa cari fratelli e sorelle nerazzurri era con Peter O'Toole faceva lo scienziato diciamo il medico gli era morta la moglie la voleva ricreare in laboratorio e disse una frase è un film quindi prendetela come volete un giorno i medici guarderanno dio nel microscopio e il primo dei due che ammicca ci rimetterà i testi ecco noi vogliamo fare dio vogliamo ricreare le cose vogliamo creare e creano solo disastri creano virus così a a caso cosa mi rappresenta ma create qualcosa che serva per salvare dall'alzheimer qualcosa che serve da salvare dai tumori non un virus da spargere in giro che poi dopo l'han pagata subito loro è naturalmente con gente che moriva per terra e quant'altro quindi cari fratelli e sorelle nerazzurri io francamente non avevo voglia di fare la preghierina di fare la solita stasera vinca il migliore se vincono loro bravi loro spero che l'arbitraggio di dover no di guida non sia da giuda ma sia da guida da proprio da riferimento una guida nel vero senso della parola da seguire anche per gli altri arbitri e non una guida da seguire per continuare il solito malaffare che vediamo nonostante il VAR perché uno finalmente dice c'è la VAR o il VAR che si voglia finalmente avremo meno errori e in effetti si vedono ma ci sono ancora ci sono ancora tanti errori gravi due pesi due misure sulle azioni falli che vengono notati e sanzionati altri che non vengono neanche guardati poi vai a vedere il rigore che hai dato bene meno grave di quello che non hai dato è brutto così è brutto brutto lo stesso perché non va bene certo c'è un gran miglioramento è rispetto a prima la moviola praticamente serve a poco ecco per intenderci alla fine della partita ci sono giusto due tre casini casini inteso come case piccoli non casini inteso in qualcos'altro prima era molto molto peggio praticamente passavano il tempo di una trasmissione a parlare di moviola e basta capisco che adesso per certi giornalisti tolta la moviola non sanno cosa dire però almeno le cose vanno molto molto meglio anche se ripeto qualche errorino resta e spesso sono errori marchiani lo stesso anche con la bar però io mi auguro che stasera guida sia da otto sia il migliore in campo lo dico sempre prima di ogni juventus intero interiume in modo che così chi vince gli si dice complimenti avete vinto perché se avete dimostrato di essere più forti o più fortunati e non c'è niente di male a essere fortunati e se tu hai la sfortuna di prendere tre pali e quelli fanno un tiro in porta e vincono è sfortuna nel calcio conta chi segna in maniera onesta purtroppo però precedentemente al 2006 poi vabbè adesso lo anche dopo il 2006 continuano a dire che rubano perché oramai è una consuetudine io continuo a dire che dopo il 2006 rigore quando arbitro fischia poi posso far notare che poteva darlo ma non sto lì a tanto ormai la partita è finita non puoi farci niente quando il giudice ha dato la sentenza dopo il terzo appello quello che è non puoi farci più nulla ti prendi quello che ha deciso il giudice anche se sbagliato quindi uguale le partite una volta che sono finite che ci fossero 10 rigori 200 rigori 35 espulsioni inondate no 35 no sono trovate ma è per farvi capire mai è tardi la partita è finita e la si chiude lì così come calcioppoli è finita invece questi vanno ancora avanti sto aspettando che vadano anche a forum manca che vanno a forum e poi dopo le hanno provate tutte comunque cari fratelli sorelle verazzurro e speriamo che questa situazione migliori ma stiamo facendo di tutto perché va davanti fino alla fine dell'anno detto questo vi mando la mia benedizione e ci vediamo la prossima volta amen